Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi ho deciso di girare un nuovo video per la rubrica sull'adozione che ho creato qui su YouTube. Il primo video che ho pubblicato per questa rubrica riguardava i luoghi comuni sull'adozione, quindi tutte quelle informazioni sbagliate che girano sull'adozione e vi è piaciuto molto. Quindi ho deciso di girare un nuovo video. In questo caso riprendo il racconto del nostro percorso adottivo dall'inizio e quindi piano e piano con vari video vi racconterò tutto quello che ci è successo e ciò che stiamo affrontando in questo momento. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella se volete avere la notifica di tutti i video che usciranno sul mio canale e di seguirmi su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Allora, in questo video vi racconterò come abbiamo deciso io e mio marito di intraprendere il percorso dell'adozione quando abbiamo avuto la fatidica notizia di non poter avere figli naturalmente. In realtà il nostro caso è molto particolare, diverso da quello che di solito accade alle coppie. Diciamo che tendenzialmente le coppie che si avvicinano all'adozione hanno prima intrapreso un percorso in cui cercano di avere un figlio naturalmente, a volte anche usufruendo dell'aiuto di medici e specialisti. Per questo molte delle coppie che decidono di adottare sono più grandi di noi, hanno un'età più avanzata. Questo ovviamente non è la regola che vale per tutti, ci sono coppie che possono avere figli ma decidono di adottare, ci sono coppie che prendono praticamente subito la decisione di adottare senza aspettare troppo tempo, però ovviamente io vi parlo generalmente di quello che è il mondo dell'adozione. Questo perché anche noi nel nostro percorso, quando abbiamo dovuto incontrare giudici, assistenti sociali, psicologi, eccetera, ci hanno più volte tutti ribadito che eravamo una coppia molto molto più giovane rispetto alla media delle coppie che decidono di adottare. Ma questo perché? Proprio perché, come vi ho annunciato all'inizio, il nostro caso è veramente diverso dal solito. Parto col dirvi che io sono cardiopatica, sono nata con una cardiopatia congenita e questo significa che il mio cuore è leggermente più piccolo di quello di una persona normale. Nonostante io avviva una vita totalmente identica a quella degli altri, una volta all'anno vado ovviamente dai miei dottori, io sono in cura a Bologna, i quali controllano che il mio cuore lavori alla perfezione, lavori bene, insomma. Io mi sono sposata nel 2013, avevo 23 anni e nel 2015 io e mio marito abbiamo cominciato a pensare ad avere un figlio. Quindi ci siamo recati dai miei dottori per avere un consiglio e sapere come muoverci, diciamo, per una possibile gravidanza. In realtà lì c'è stato detto che la gravidanza per me era sconsigliata. Quindi io parto col dire che non è che io non posso avere figli, perché da un punto di vista di fertilità non è mai venuto fuori niente, né da parte mia né da parte di mio marito, di qualsiasi tipo di problema. Bensì è sconsigliato perché durante una gravidanza il cuore di una persona lavora quasi il doppio, perché deve lavorare per due persone. Il mio, essendo un po' più piccolo, rischierebbe di affaticarsi troppo e di danneggiarsi. Questo è pericoloso per me ed è pericoloso chiaramente anche per il bambino e quindi sarebbe una gravidanza a rischio che andrebbe tenuta molto sotto controllo. Per questo i dottori, insomma, mi hanno sconsigliato di avere una gravidanza naturale anche se ci sono donne con la mia stessa cardiopatia che hanno avuto figli. Vi dico fin da subito che questa cosa chiaramente lì per lì mi ha lasciato abbastanza di stucco, abbastanza, ero piuttosto provata ecco da questa notizia, perché ovviamente io non ci avevo mai pensato, proprio perché dato che io conducevo e conduco una vita normale, pensavo che fosse normale anche per me poter avere figli. Invece così non è stato. Ma nonostante lo sconforto iniziale, abbiamo parlato anche con altri dottori, sempre persone che mi hanno seguito fin da quando sono nata e diciamo che alla fine avevamo preso la decisione di tentare perché appunto non era impossibile avere un bambino e quindi contavamo insomma di essere tenuti entrambi, ma insomma io sotto controllo, durante tutta la gravidanza e con insomma la positività che sarebbe andato tutto bene. Io prendo la pillola, quindi ovviamente avrei dovuto interrompere la pillola per cominciare a provare ad avere un figlio. Ecco, vi dico che qui è scattato qualcosa, io mi sono resa conto che non smettevo mai di prendere la pillola. Ogni mese la ricompravo, quindi ho cominciato a riflettere su questa cosa. Eravamo in America, in un viaggio che abbiamo fatto qualche anno fa bellissimo, eravamo anzi a Washington in quel preciso momento, parlavamo, passeggiavamo e parlavamo con mio marito e io gli ho detto ma perché non adottiamo? E lui, io ero convinta che lui mi avrebbe risposto di no, che mi avrebbe detto se hai paura di avere un figlio naturale, non ti preoccupare, non avremo figli e rimaniamo io e te. Quindi ero terrorizzata da questa possibile risposta perché io li voglio veramente tanto, dei figli. E invece lui mi ha detto sì, sono d'accordo con te, adottiamo. Quindi è stata chiaramente una svolta. Ecco, abbiamo comunicato la cosa ai nostri genitori i quali sono stati felicissimi, soprattutto i miei, perché i miei non avevano in alcun modo interferito con la decisione di voler provare ad avere un figlio naturalmente, ma dentro di loro erano impauriti, come è ovvio che sia, perché sono comunque loro figlia. E quindi, insomma, sapevano che era una decisione che dovevamo prendere io e mio marito, però erano piuttosto preoccupati e quindi quando hanno saputo di questa nostra scelta sono stati felicissimi di appoggiarci. Qui una domanda sorge spontanea e vorrei riflettere su questo. Dopo più di tre anni, da quando abbiamo iniziato il nostro percorso di adozione, io penso ancora al desiderio di avere una gravidanza naturale? La risposta è sì, ci penso. Ci penso perché il percorso dell'adozione che ci ha visti partire con le migliori intenzioni, con la più grande positività, si è rivelato un percorso esageratamente lungo. Quindi diciamo che la nostra storia non coincide con la storia delle altre coppie, ogni coppia ha una storia diversa, ci sono coppie che adottano veramente in pochissimo tempo, però purtroppo per noi non è stato così. Nonostante le premesse fossero, siete giovani, vedrete che il vostro bambino arriverà prestissimo, siamo ancora qui, siamo ancora qui senza figli e siamo in una fase molto delicata dell'adozione e abbiamo dovuto affrontare tantissimi problemi, tantissimi intoppi, tantissimi rallentamenti purtroppo, dei quali ovviamente avrò modo di parlarvi in seguito. Quindi mi viene da pensarci? Sì, ci penso, perché mi dico che se potessi avere un figlio in maniera naturale, molto probabilmente oggi sarei già mamma. Uno dei miei grandi desideri nella vita era diventare mamma prima dei 30 anni. 30 anni li ho compiuti da poco e ancora non lo sono, quindi è andata così. Quindi sì, c'è il desiderio e ci sono delle giornate in cui è più pesante, delle giornate invece durante le quali sono più tranquilla. Però sono ragionevole, quindi mi rendo conto dei rischi che corro e mi rendo conto che sarebbe una scelta azzardata e una scelta anche tra virgolette egoistica, perché grazie all'adozione ho la possibilità di aiutare un bambino che non ha una famiglia, che vive una situazione difficilissima e ho l'occasione di dargli una nuova vita. Quindi si uniscono, grazie all'adozione, due desideri, quello di un bimbo di avere una casa e quello di due genitori di avere un figlio, perché credo che non ci sia niente di male nel desiderio di avere un bambino, non ci sia niente di egoistico in questo. C'è il desiderio e ovviamente siamo ancora più felici di poter aiutare qualcuno che non ha appunto dei genitori. Che l'adozione sia troppo lunga è abbastanza scontato, cioè si dice tanto spesso che questo non è un luogo comune, è la verità, e dovrebbe cambiare assolutamente qualcosa. È ridicolo che nel 2020 ci voglia così tanto tempo, considerate quanti bambini nel mondo sono negli orfanotrofi. Quindi diciamo che forse renderlo più semplice permetterebbe a tante coppie di avvicinarsi all'adozione un po' prima e a più bambini di trovare una casa. Però questa è la realtà nella quale viviamo. Come ho detto per l'appunto mi faccio forza e accantono questo desiderio di maternità anche naturale che è in me perché so che questa è la mia strada, il mio cammino e alla fine arriverò in fondo a questo percorso e basta, devo solo tenere duro. Va bene. Quindi proseguendo il mio racconto, una volta tornati dall'America abbiamo scaricato da internet un bel malloppo di fogli dal sito del Tribunale dei Minori di Firenze per presentare la nostra domanda di adozione. Il mio racconto finisce qui, ovviamente nel prossimo video che girerò su questa rubrica vi parlerò di come è andato avanti il nostro percorso e di come è stato turbolento il nostro rapporto con il Tribunale per i minorenni e con tutte le persone che ci lavorano intorno e qui ci sarà da ridere. Quindi ovviamente vi aspetto nei prossimi video. Come sempre vi ringrazio per essere stati ad ascoltarmi e ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!